A G e la mia piccola ci siamo vestiti uguali, abbiamo comprato su Wish ordinato, quindi online sul sito cinese, ma penso che lo conoscerete e abbiamo fatto il coordinato con i leggings, vedete, quelle stelle neri e poi abbiamo preso questo t-shirt per tutta la famiglia, questo sito, come che era? Baby Bear, non mi ricordo più perché non le... Mamma Bear, appunto, con i fiorellini, l'orsetto appunto e anche io il coordinato con i leggings e le stelle, vabbè, forse saremo un po' ridicolo, non lo so e anche il papà ha la maglietta che ha scritto Papà Bear e basta, niente, poi continueremo i nostri video, ciao ciao! Ah, col sedere, scendo, scendo, scendo di sedere, scendo di sedere Ti rincorre, ti rincorre, ti rincorre Ah, via, 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 via So, on Nooo, posso crede Noee, ricordo che le minacce di Sérôga fossero reali e fosseroyers ma c'è te e tu cucù 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 arianna cucù cucù no niente video no niente video arianna dov'è arianna non c'è arianna dov'è arianna non c'è chissà dove sarà arianna è con l'acqua ma dove siamo? dove siamo? dove siamo ari? dove andiamo oggi? andiamo in pishmina andiamo in pishmina Pier senti che bel rumorino consigliante ma dove vanno che due? scappano mi lasciano da sola mi sono persa mi sono persa mi sono persa dove stai? dove fai? eccola vediamo un po' cosa hanno preso i genitori per arianna vediamo un po' manchiamo marice era meglio usarla forse oh cosa c'è qua dentro? cosa c'è qua dentro? vediamo se profuma veramente valle non profuma no puzza di plastica puzza di plastica? magari profuma all'interno non so vediamo no non profuma come c'è scritto come dico uno guarda guarda lì buona due e e e e e e e e e orsetto un po' moliccio un po' è una ciofechina un po' leggermente profuma vagamente annusa ti piace? no come no però lo vuoi? rompiamolo subito con quel tè rompiamolo rompiamolo non esce è così è fatto così no si fa così guarda così lo infiliamo dentro così diventa un cupcake poi fai così oh è uscito hai visto? ti piace il tuo orsetto? sembra una cacchina aspetta 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 così così ariana me lo mangio l'hai fatto te vero? me l'hai detto te che buono ariana che buono no no fai il massaggino? ancora che no troppo bene grazie amore che brava questa mi ha fatto il gusto di massaggio 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 quindi spiaggia me la metti te la credo così state garantito mi fai i massaggi? grazie tieni sei la mia massaggiatrice personale? no adesso eh ariana 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 ariana